Allora, video diario Allora, siamo appena arrivati finalmente a Viette Che poi non è Viette Dopo fessici in quello che sarebbe il nostro Resilience E ben dopo una roba come 500-600 km Ascione Esce dalla macchina e la prima cosa che fessa è una merda Bene ragazzi, cosa dire? Io non saprei Però mi sa che la vacanza ha iniziato proprio bene Non esiste proprio Grazie